Ambi di marcatura, difese molto mobili, Danilovic da tre punti in faccia a Calori, recupera palla Moretti, Danilovic è libero e va a realizzare, Bologna tocca nuovamente il suo massimo margine di vantaggio, più 4, 23 a 19 dopo essere stata sotto di 5. E' il gancio di Flavio Carrera, un'altra arma di Bologna che sbaglia e poi c'è un rimpallo incredibile, la pallavacca è chiarata a zona contro questo finale, Danilovic da tre a canestro e ferma la difesa di Pesca. La Scavolini rientrava appena nelle seconde linee degli outsider, i pronostici di partenza davano come due grandi Bologna e Treviso, poi un gruppetto con appunto Pesaro, Trieste e Milano. E invece Pesaro è in finale, non c'è questo canestro e il pallo fischiato a Graudo che aveva segnato due canestri da tre che avevano lanciato Pesaro. Moretti a Danilovic, balla sul ferro ma è un ballo vincente per questa palla di Sasha Danilovic che riporta Bologna più 6, 65, Buckler 59, Scavolini. Ha in mano una palla che brucia sulla situazione di parità, 78 a 78, non può più sbagliare niente a nessuno. Danilovic contro McLeod, l'entrata di Danilovic, forzatissimo, canestro da campione di Danilovic.